Carissimi, bentornati e bentornati all'Alieno Diario. Oggi ho una notizia super da darvi, ovvero domani 10 gennaio 2024 sarò a Roxy Bardi Redronni che riparte live e accadranno delle cose. Uno, vi suonerò, vi canterò, naturalmente dal vivo ci salveranno gli alieni che mi sembra vi stia piacendo molto questa canzone, che vi stia suscitando pensieri, domande. Grazie per tutti i commenti, vedo che il videoclip vi sta intrigando, vedo che cercate di capire quello che io volevo dire, ma chissà poi cosa volevo dire, non ci salveranno gli alieni, io racconto un sogno, lo avete capito, no? Poi non solo, attenzione, attenzione, presenterò in prima assoluta il mio nuovo singolo che uscirà il 19 gennaio, quindi se volete ascoltare la mia nuova canzone, questo è un periodo veramente in cui sto sparando nella galassia tanta nuova musica, quindi collegatevi, ascoltate la diretta stasera di Red che sarà bella con tanti ospiti perché presenterò in anteprima anche il mio prossimo singolo, in uscita il 19 gennaio e ve l'ho ripetuto perché vi entri bene nel cervello questa cosa e magari anche nel cuore. Un bacio grande dall'Alieno Diario è tutto per oggi, domani 10 gennaio, vedete tutti i Roxy Bar, baci 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 baci.